Per il Gran Sasso arriva il via libera al piano del parco, anche dalle Marche, ad annunciarlo in conferenza stampa una parte della maggioranza li centrodestra. Al di là dell'aspetto fondamentale che apre a nuovi investimenti, la partita sembra anche di natura politica. Non c'erano esponenti della Lega ed è notizia di qualche giorno fa, per bocca del coordinatore regionale Luigi Deramo, che verrà istituita una task force sul tema. Al tavolo, con il capogruppo di Forza Italia, Giorgio De Matteis, i consiglieri Morelli, Mancinelli, Dundè, D'Angelo e Buontempo. La notizia annunciata da De Matteis era comunque attesa da anni. Nel 2003 la giunta regionale approvò il piano d'area del Gran Sasso, che De Matteis ha rivendicato, avendoci lavorato in prima persona. Dal 2004, ha ricordato De Matteis, si è lavorato poi al piano del parco con estrema lentezza, fino ad arrivare alla trasmissione del provvedimento alle regioni, entro cui sono ricompresi i confini del parco. Dopo l'Abruzzo e il Lazio, l'ok arriva dunque anche dalle Marche e ora si può cominciare seriamente a parlare di sviluppo reale. De Matteis ha invitato il governatore Marsilio a spingere, affinché il capo della struttura di missione Curcio convochi il tavolo, trasferendo così al comune 9 milioni di euro di fondi cipe per il Gran Sasso. Per i presenti è ora di creare una convergenza tra città, operatori economici, provincia, comune e regione. Il direttivo del parco, peraltro, verrà rinnovato a breve giro. I presenti hanno indicato pure delle priorità. Investimenti sulle infrastrutture di risalita, realizzando il secondo arroccamento, nuovi impianti a fune e chiaramente l'innevamento artificiale. È un passo fondamentale, perché le tre regioni che sono ricomprese all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga prevedevano per l'approvazione del piano di sviluppo del parco, all'interno del quale c'è il piano d'area che risale addirittura all'Aggiunta Pace, il sottoscritto era l'assessore di quella giunta che lo aveva seguito, il piano d'area, lo strumento urbanistico, vede finalmente concretizzarsi in termini operativi reali con l'approvazione anche della regione Marche di questo piano di sviluppo. Quindi noi adesso possiamo non solo pensare a ciò che era previsto prima, cioè le sostituzioni di strutture e di impianti, oggi pensiamo realmente a uno sviluppo dell'intera area che possa ricomprendere anche gli impianti, oltre a interventi recettivo e di potenziamento dello sviluppo turistico.